Lachi, Lino e Rosa, o come li chiamano affettuosamente gli addetti del canile Stefano Cerni di Rimini, parafrasando i moschettieri di Dumas, i tre tremolini. Si tratta di tre piccoli mici, nati tre mesi fa da due gatte selvatiche che non stavano bene e che sono state segnalate da un cittadino all'ufficio benessere degli animali, che si è quindi attivato per affidarla ad una signora disponibile ad ospitarle temporaneamente. Le due gattine, ritrovate in condizioni igienico-sanitarie e precarie, hanno così partorito una cucciolata di sette mici. I tre tremolini sono gli unici sopravvissuti. Il soprannome nasce dal loro incedere incerto e barcollante, causato da un problema neurologico che non gli permette di zampettare in equilibrio. Ma vederli spostarsi è quasi commovente, dicono dal canile, considerando che hanno rischiato di non farcela. I tre, due col pelo grigio tigrato e uno bianco con chiazze rosse e grigie, hanno già trovato casa. Due famiglie, infatti, hanno iniziato le pratiche per l'adozione. Una storia a lieto fine, grazie all'impegno di operatori e volontari del canile e la disponibilità di Federica, che ha preso in cura le due gatte mamme e i giovani mici, nel momento più difficile. Un lavoro di squadra, insomma, necessario per dare speranza agli amici pelosi, troppo spesso abbandonati in strada.